Sul fatto che adesso è diventato ambasciatore del gusto in vista di Expo, ora che cosa l'attende, che cosa farà? Un po' di lavoro in più, per cui si fa, è una cosa bella vedere il presidente della regione che crede in questa manifestazione, che soprattutto crede nell'Expo, credo che sia il messaggio più bello e più importante che potesse dare. Comunque abbiamo visto che si può essere fantasiosi anche con dei panini, dei semplici panini. Sì, ma non manca la fantasia o la creatività, manca solamente quella spinta a crederci in maniera più decisiva e più concreta e portare a termine il lavoro. Poi tutto il resto arriva da solo. Fare il sistema è mettere in campo tutto quello che funziona bene e cercare di rafforzarlo e svilupparlo soprattutto in chiave internazionale.